Giampiero Bonfanti, il popolo della famiglia, questo è il nome della lista, sostiene Manuela Ponti. Trasporti a Monza se guarda i prossimi cinque anni. Sì, noi come il popolo della famiglia non crediamo tanto in questi grossi progetti che poi sono poco realizzabili perché sono dei progetti mastodontici a lungo termine, quando incominciano e quando finiscono. La nostra proposta è quella dell'utilizzo di mezzi, noi vediamo in giro per la città, degli autobus semivuoti. Questo è quello che noi proponiamo, è di utilizzare magari dei mezzi più piccoli, con energie alternative, una tecnologia molto più sviluppata, proprio per snellire e per ottimizzare quello che può essere lo spostamento nell'ambito della città. Chiaramente auspichiamo anche un utilizzo di mezzi più ecologici, quali biciclette e quant'altro, quindi si prevede anche comunque un piano di urbanizzazione di un certo tipo, cercando sempre comunque un rispetto dell'ambiente che per noi è la base proprio della nostra campagna elettorale, essendo proprio per la famiglia naturale e per tutto quello che riguarda la naturalità dell'ambiente. Infatti il popolo della famiglia? Sì, innanzitutto c'è da considerare che la situazione di Via Asiago la conosciamo molto bene perché nella nostra lista abbiamo anche comunque un'amministratrice di condominio di Via Asiago. È una problematica, una problematica affrontata male e a nostro avviso le soluzioni devono arrivare con delle proposte. Innanzitutto le persone che sono nella nostra città devono essere integrate. Integrate vuol dire date un'educazione civica e comunque sia anche che imparino la lingua. Ma la nostra soluzione è chiudere questo rubinetto perché se in una vasca da bagno continuiamo a mettere dell'acqua e c'è il tappo, alla fine la vasca traborda. Quindi noi rilanciamo come il popolo della famiglia un aiuto nei loro paesi perché ogni individuo necessita di una dignità. Quindi riteniamo che sia importante. Con i soldi che noi spendiamo qua possiamo aiutarli nel loro paese. Quindi cercando comunque una situazione che possa essere dignitosa per le persone che vengono in Italia. La crisi ha picchiato duro ovunque, ovviamente anche a Monza. Innanzitutto appunto restando sul discorso della famiglia vorrei giusto rispondere al collega che parla che non ci sono carte di identità o passaporti. C'è un problema principale a Monza. Abbiamo dei dati demografici che dimostrano che praticamente Monza si sta estinguendo. Quindi prima di parlare di altre cose bisognerebbe capire effettivamente che cosa bisogna fare. Quindi puntare sulla natalità. Questa è un'atterità chiaramente delle famiglie italiane e delle famiglie residenti a Monza. Altrimenti la nostra città muore. Quindi noi proponiamo una politica per la vita. Una politica che riguarda incentivi per le famiglie, alle giovani coppie. E anche siamo rivolti alle famiglie con anziani. Quindi creando dei quartieri e dell'assistenza a domicilio e quant'altro. Abbiamo un piano ben preciso ma il tempo è molto breve. Anche per lei, verde pubblico, ambiente, le priorità su questo versante? Sì, diciamo che l'argomento l'ho sfiorato un attimino prima parlando dei trasporti pubblici e quindi di mezzi. La nostra proposta è l'utilizzo di mezzi comunque tecnologicamente all'avanguardia. Proprio nel rispetto dell'ambiente. Questo sicuramente è un dato prioritario. Si risolvono due problematiche del Comune di Monza semplicemente con questo. Però noi come ambiente riteniamo che non bisogna fermarsi solamente al parco di Monza o quant'altro. L'ambiente è l'ambiente in cui viviamo. L'ambiente in cui viviamo noi immaginiamo una città per i bambini. Una città dove possiamo avere dei marciapiedi più larghi, dove possiamo avere una viabilità migliore, dove possiamo avere determinate accortezze per incrementare appunto il dato delle nascite e comunque della buona vita di Monza. Questo per noi è molto importante. Dobbiamo spingere su questo punto perché è basilare capire che possiamo fare tutte le politiche che vogliamo sull'ambiente, ma se arriviamo ad un punto che non ci sono più nascite non serve a nulla. Spettacoli, tempo libero. Sì, è molto importante innanzitutto per la nostra lista valorizzare le radici della nostra città e la cultura della nostra città. Questo è qualcosa che nel corso del tempo è andato a penso. Adesso noi abbiamo dei tesori da riscoprire e molto spesso sento dire che questa può essere una politica che non paga. La nostra lista crede fermamente nella tradizionalità della nostra città e nel rilancio moderno dei nostri valori. Per quanto riguarda il tempo libero, chiaramente valorizzando il centro storico di Monza avremo comunque la possibilità di avere più famiglie in giro per il nostro centro. Quindi rilanciare anche il turismo e rilanciare comunque le attività medio-piccole sulle quali noi puntiamo. Non crediamo in grossissimi progetti, grossi appalti. Dobbiamo rilanciare il medio-piccolo imprenditore e questo per noi è molto importante. 30 secondi, non vi chiedo la prima cosa che farete nei primi 100 giorni, perché 100 giorni possono essere tanti. Vi chiedo una cosa che farete nei primi 30. Innanzitutto la sicurezza è anche per noi un aspetto importante, presidi permanenti nelle zone calde e anche con unità cinofile se è il caso ed eventualmente anche partnership con società private che possono comunque assicurare una vigilanza notturna. Chiaramente reddito di maternità che per noi è importante e revisione dei coefficienti familiari.